L'acquario è sulla bocca di tutti. Questo passaggio di Plutone in acquario ha come primo effetto il fatto che tutti parlino dell'acquario, con una gran confusione perché poi c'è chi parla dell'era dell'acquario, c'è chi parla di un periodo acquariano, c'è chi parla di Plutone in acquario. Ecco noi siamo stati molto 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 chiari e precisi, parliamo di Plutone in acquario, transito che inizia, è già iniziato, inizierà poi ufficialmente, definitivamente nel 2024 e andrà avanti per 20 anni. Allora già il fatto che Plutone entra in acquario sta creando del subbuglio, subbuglio acquariano, ci si confonde perché l'acquario è un segno che mischia le carte, l'acquario è un segno che fa perdere l'orientamento, che fa perdere il centro e che quindi fa esplodere in mille pezzi quello che è il nucleo centrale del segno che gli è opposto, cioè il leone. Allora che cosa c'è di Plutonico nell'acquario? Come fa l'acquario entrare in sintonia con l'energia plutonica? Beh certamente Plutone fa eco a questa linea trasgressiva acquariana, se vogliamo anche la sua dimensione più carnevalesca, perché l'acquario è in grado di cambiare volto e quindi di cambiare continuamente forma e Plutone non è altro che l'inesistenza di una forma compiuta. Plutone è in forme, Plutone è deforme, Plutone cambia la forma, la cambia a partire dalle basi e l'acquario è certamente sempre in sintonia con questa possibilità di continua trasformazione. Il trasformista per eccellenza che cambia continuamente dal colore dei capelli alle idee che ha per la testa, ai luoghi in cui vive, con questa spinta plutonica sta cambiando un po' che tutto il mondo. Attenzione alla confusione, bisogna poi essere chiari in questo mondo di Plutone in acquario, bisogna rispondere all'acquario con l'esercizio della verità. Ecco che l'acquario deve trovare dentro di sé la verità e il mondo, ognuno di noi poi deve trovare in questo periodo di Plutone in acquario una verità, che non sia statica. La verità può essere anche dinamica, purché parli di noi, in una maniera sincera, in una maniera pura e in una maniera vitale. Attenzione perché Plutone in acquario non è necessariamente il mondo dei robot.